lunedì 22 gennaio buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri ben trovati qui sul canale buon inizio di settimana a tutti una settimana da prima della classe da primi in classifica perché con la vittoria al via del mare la juve scavalca l'inter diventa il ladro in fuga dalle guardie anche se le guardie avranno da giocare ovviamente da recuperare la partita contro l'atalanta ma intanto godiamoci questo momento e allora è sbarcato jalò il giorno dopo e insomma un po di situazioni da considerare insieme prima di farlo vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube azionate la campanella notifica mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata per questo primato in classifica della juventus forse inaspettato per alcuni che credo meriti comunque il massimo il massimo la massima considerazione dunque è sbarcato a torino tiago gelò lo sapevamo l'avamo detto l'avamo raccontato sarebbe arrivato in questa settimana e avrebbe sostenuto le visite mediche quindi per tiago gelò alla juventus ormai è soltanto un dettaglio l'ufficialità della firma sul contratto la l'operazione si è sbloccata con il passaggio di filippo ranocchia in prestito all'empoli dall'empoli al palermo il denaro è servito per chiudere la l'operazione con il lil per l'approdo alla juventus appunto del difensore che va a rinforzare il pacchetto retrato della juventus è un pacchetto retrato che sta manifestando comunque delle veramente dei grandi progressi delle ottime performance di alcuni singoli e ovviamente io credo come in passato abbiamo fatto criticando e mettendo in evidenza che tanta parte della rosa era stata svalutata oggi alla luce dei risultati che sta perseguendo la juve alla luce anche delle prestazioni di alcuni singoli vada reso merito al lavoro svolto in questo in questa stagione senza ombra di dubbio da massimiliano allegri perché se il reparto retrato sta facendo così bene lo deve chiaramente al contributo di tutto il resto della squadra perché non si difende mai soltanto con i difensori però credo che prendendone uno su tutti glaison bremer ancora una volta abbia veramente offerto una prestazione convincente una prestazione fatta di qualche sbavatura senza ombra di dubbio perché non è un giocatore certamente elegante di gran classe ma è un giocatore di grande efficienza di grande esplosività di grande imponenza e la sua crescita anche proprio nel nel far sentire il peso di questa sua di questo suo strapotere fisico è molto evidente tra l'altro mi sembra che sia anche molto migliorato nella lettura di alcune situazioni che ovviamente hanno vanno il cui merito va ricondotto ad una persona che appunto massimiliano allegri come lui anche andrea cambiaso andrea cambiaso merita un minuto del nostro tempo perché credo pur ripetendomi che la juventus abbia firmato con andrea cambiaso un giocatore non solo polivalente ma veramente un perno per i prossimi anni se la juventus che voleva anche una sorta di re italianizzazione all'interno della rosa pensava appunto di intraprendere con lui un percorso di lungo termine un giocatore che dimostra una tra l'altro una grande polivalenza perché può giocare sia a destra che a sinistra ma non solo può giocare sia come esterno che come interno di centrocampo non a caso nelle ultime due partite è entrato ea e lui è entrato nel mezzo a giocare da mezzala salvo poi essere sostituito da alexandro ma è un giocatore che appunto è polivalente perché non solo gioca sugli esterni può giocare in mezzo al campo e soprattutto ha una grandissima intelligenza calcistica oltretutto ieri ha impreziosito la sua ottima performance anche con l'assist per il gol dell'1-0 della juventus e poi il discorso non può non finire su dusjan blachovic che soltanto due mesi fa circa era uno di quei giocatori tra i giocatori più criticati uno di quei giocatori messi costantemente in discussione e per il quale spesso leggiavamo dell'operazione mancata in estate tra la juventus e il celsi per l'approdo di lukaku agli ordini di massimiliano allegri giocatore che molto probabilmente sarebbe stato consono al modo di giocare di allegri io però credo che al di là della fortuna quando non si incastrano determinate situazioni perché a volte non si incastrano per questioni che vanno oltre l'averci visto lungo sulla qualità tecnica di un giocatore vanno oltre altre situazioni ad esempio quelle economiche perché l'operazione molto probabilmente sarebbe servita anche a livello economico per sistemare i conti perché ricorderete che la juventus comunque non avrebbe fatto partire dusjan blachovic se non monetizzando bene dalla sua accessione ma fortunatamente tutto questo non è avvenuto e io ribadisco una volta di più sono sempre stato fermamente tra coloro i quali erano per il no a livello di quell'operazione oggi credo che tutto questo stia ripagando uno perché dusjan blachovic sta fornendo prestazioni confortanti due perché sta segnando con una certa regolarità è già in doppia cifra ma soprattutto perché sta mostrando del diciamo di essere quel giocatore per il quale la juve investì una cifra molto importante intorno alle 80 milioni di euro alla fiorentina ora voi direte cosa c'entra in tutto questo massimiliano allegri che i meriti non possono essere asseriti allenatore come i demeriti vanno ascritti allenatore anche i meriti al tempo stesso debbono essere riconosciuti allenatore e credo che con dusjan blachovic abbia fatto un ottimo lavoro perché oggi blachovic non è più quel giocatore che non sa stoppare la palla è un giocatore che sicuramente ha un modo di giocare diverso rispetto a quando giocava la fiorentina più spalle alla porta meno fronte alla porta ma è in grado anche di saper far salire la squadra di giocare di sponda di proteggere il pallone dove sicuramente deve ancora migliorare ma ha fatto ampi veramente progressi rispetto a un recente passato poi chiaro i meriti vanno poi ascritti alla condizione atletica del ragazzo perché lo ha detto lui stesso intervistato post partita contro il lecce uno dei segreti del suo rendimento è certamente il fatto che oggi fisicamente grazie a dio non ho problemi fisici mi sento bene queste sono le sue parole è ovvio che quando un giocatore è libero di testa da problemi fisici che lo attanagliano ha un rendimento completamente diverso e credetemi per chi è afflitto da pubalgia anche un controllo anche un girarsi un proteggere la palla diventa tremendamente difficile lo dico per esperienza personale ma al di là di questo che conta poco credo che il rendimento di vlachovic oggi sia un qualcosa che faccia veramente ben sperare nella corsa al titolo corsa che in questo momento ripeto vede la juventus per stessa battuta fatta da massimiliano allegri essere oggi il ladro in fuga dalle guardie che inseguiranno al loro ritorno in italia stasera saranno impegnati nella finale supercoppa contro il napoli e poi ci ritufferemo nel campionato per appunto questo avvincente duello che credo stia rendendo entusiasmante se vogliamo un campionato abbastanza povero e avaro di qualità povero di emozioni però quando ci sono due contendenti che molto probabilmente lotteranno fino alla fine se non altro si ravviva un po' quella sana rivalità che era un po' mancata con lo straordinario campionato fatto dal Napoli nella passata stagione che non ebbe fondamentalmente rivali quindi dopo il giorno dopo l'arrivo di Jalot è la notizia di mercato confermata la vittoria ha portato sicuramente a metter luce su rendimenti di giocatori che sicuramente stanno overperformando stanno facendo veramente qualcosa di straordinario il merito è per colui sicuramente anche per colui che siede in patina che ieri ha toccato 300 vittorie in serie alle spalle di due mostri sacri come Neorocco a quota 302 e Giovanni Trapatone a quota 352 quindi situazione che si fa interessante perché queste vittorie sono quelle che poi servono per acquisire ulteriormente autostima per crescere di livello e a questo punto cosa manca? Manca sicuramente un ritorno un pieno ritorno degli infortunati Federico Chiesa e Adrian Rabiot che sono fondamentali nella rincorsa allo scudetto quindi speriamo che la Juve possa recuperarli presto così come speriamo che la Juventus riesca a chiudere un'operazione in mezzo al campo perché io credo che in una lotta così serrata sia fondamentale avere anche i ricambi giusti. Ieri male, malissimo Miretti speriamo sia un incidente di percorso ma resto convinto che il suo percorso doveva essere come quello affrontato da Barenicea e da Suleo da Caio Giorgi in prestito per giocare meno soggetto a pressioni, più libero per potersi ritrovare e tornare a performare per crescere costantemente come aveva fatto fino alla stagione scorsa la prima di grande difficoltà nella quale fu in grande difficoltà la stessa Juventus. Ieri male speriamo però che possa tornare su livelli soddisfacenti perché c'è tremendamente bisogno di tutti soprattutto se fino in questo momento non è arrivato quel centrocampista che la Juve vorrebbe fare proprio per incrementare il valore e il livello di questa rosa che a questo punto in utile che si nasconda deve lottare per lo scudetto. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto come sempre fino alla fine. Ciao!